Uno scrigno prezioso di testimonianze storiche, antiche e più recenti, in uno scenografico paesaggio naturale. La Val Sassina, che si raggiunge facilmente da Lecco, è un susseguirsi di splendidi quadretti ambientali, circondati da cime imponenti che offrono sentieri, dolci e aspri, per tutti gli amanti della montagna. A Centrovalle, in Trobio, tra le numerose testimonianze storiche, ne annovera una importantissima. È la Cascata della Troggia, nota anche a Leonardo, che quando fu a Milano da Ludovico il Moro, spesso si recò in Val Sassina. Osservando questo spettacolare salto d'acqua, il genio di Vinci elaborò importanti teorie. La Cascata della Troggia fu ammirata già da Leonardo, che nel foglio 214 del Codice Atlantico ne descrive la scenografica bellezza e potenza. Non molto distante, la storia si fa mistero. Abindo di Cortenova, l'ottocentesca villa De Vecchi, da tempo abbandonata, è ancora oggi ritenuta sede dei fantasmi dei suoi proprietari. Felice De Vecchi, ricco borghese milanese, ebbe problemi di salute a seguito di un viaggio in India. Fece così costruire questa villa, che all'epoca era magnifica, vicino alle terme di Tartavalle, per beneficiare delle acque curative. E infine via in montagna, su verso le Grignie, le vette più elevate e aspre, lungo sentieri circondati da panorami mozzafiati.